Qual è il nesso profondo che lega la ricerca scientifica con quella prettamente filosofica e metafisica? A domandarselo è Massimo Cacciari, filosofo, saggista e politico, che con il suo intervento dal titolo L'immagine scientifica del mondo ha inaugurato il ciclo di incontri sul tema La filosofia di fronte al mondo, che ha preso il via il 24 ottobre e andrà avanti fino al 12 dicembre presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti. L'iniziativa, curata da Oreste Tolone, professore associato di etica applicata presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative dell'Ateneo D'Annunziano, si avvale della collaborazione dello Europe Direct di Chieti, di cui il responsabile è Annalisa Michetti. Oltre all'intervento di Massimo Cacciari, che ha inaugurato il ciclo di incontri, nel programma dell'evento organizzato dall'UDA sono previsti altri appuntamenti con Veronica Neri, professoressa di etica della comunicazione pubblicitaria presso l'Università Statale di Pisa, Stefano Mancuso, professore biologo e studioso dell'Università di Firenze, e Alessandra Papa, professoressa di filosofia morale e di pensiero femminile presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli incontri filosofici saranno incentrati sulle rapide trasformazioni economiche e sociali che hanno investito le società contemporanee, ponendo grandi sfide e costringendo a un ripensamento di paradigma, tanto più evidente nel caso della crisi ambientale e climatica, che rende indispensabile e urgente, così come raccomandato anche dall'Unione Europea, un aggiornamento delle pratiche che coinvolga la scienza e le tecniche di comunicazione e di informazione. All'inaugurazione del ciclo di incontri, presso l'Aula Magna del Rettorato di Chieti, era presente anche il Rettore Liborio Stoppia. L'intervento del professor Massimo Cacciari, dal titolo L'immagine scientifica del mondo, è coinciso con la presentazione ufficiale e l'uscita nazionale del suo ultimo libro, Metafisica concreta, edito da Adelphi. Mediante una ricostruzione del concetto di scienza, Cacciari ha affrontato la questione del nesso profondo che lega la ricerca scientifica a quella prettamente filosofica e metafisica. Il prossimo appuntamento con la filosofia di fronte al mondo è calendarizzato per il 7 novembre con Veronica Neri, sempre presso l'Università d'Annunzio di Chieti.